Bentornati e ora parliamo ancora di momenti salienti, in questo caso della DS Automobiles che è il nuovo brand del gruppo PSA e vediamo in questo prossimo servizio i momenti importanti dell'anno 2016 di questa nuova casa automobilistica. All'insegna della nuova DS3 il 2016 del marchio premium di gruppo PSA, presentata nella meravigliosa e indimenticabile cornice del Louvre di Parigi nelle versioni berlina e cabrio, l'evoluzione della compatta di lusso francese accresce le sue doti di raffinatezza, alta tecnologia e prestazioni offrendo una gamma ricca anche di varianti esclusive come la DS3, BRM e Cronograph o la Givenchy Le Makeup, entrambe realizzate in partnership con famose Maison francesi, mentre agli amanti della guida sportiva sono dedicate le versioni Performance, una linea che sottolinea il carattere dinamico delle vetture DS, sempre all'insegna dell'eleganza. Le quasi infinite possibilità di personalizzazione delle automobili della gamma, in sintonia con la vocazione propria del DNA del marchio, trovano la massima espressione nella DS5 con Monde Speciale, presentata al Salone di Parigi e realizzata in una edizione unica e su misura per accontentare ogni più piccolo desiderio della sua cliente. In Italia, DS Automobile sposa il gusto e la raffinatezza dei Jeans Restaurateurs d'Europe, associazione europea di origini francesi che riunisce molti fra i migliori e più giovani rappresentanti dell'alta gastronomia. La partecipazione al campionato mondiale delle monoposto elettriche di Formula E sottolinea inoltre la capacità di misurarsi con il futuro dell'innovazione tecnologica, mentre alla promozione di un'immagine esclusiva e raffinata, contribuisce la diffusione dei DS Store nelle principali città del mondo. Il 2016 ha visto anche l'inaugurazione della sede romana, una vetrina elegante, interamente dedicata all'universo DS. Un marchio dalla personalità unica, che ha avuto un riconoscimento importante dalla giuria di esperti del concorso di Chantilly Arts & Elegance Richard Mill, che ha eletto la concept elettrica DS e TENS, l'auto più bella della Kermess.